Seconda giornata del Girone B di Serie D 2015-2016 Gustese Roncalli, Pro Sesto, di fronte al battaglia Gustese avanti al sedicesimo con Anzano L'uno a uno della Pro Sesto arriva al secondo del secondo tempo con Comi Gustese Roncalli di nuovo avanti al ventitreesimo, la firme di Romano Capolavoro di Anzano poco dopo la mezz'ora, Gustese Roncalli 3, Pro Sesto 1 Al quarantaduesimo Battaglino riporta la Pro Sesto in partita, 3 a 2 All'ultimo di quattro minuti di recupero, la capocciata di Brognoli fissa il punteggio sul 3 a 3 Grazie Grazie Grazie